Il Salento, come il resto della Puglia, continuano a bruciare e le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco ne hanno abbastanza. Mancano mezzi, misure adeguate di prevenzione e ancora una volta la situazione sta sfuggendo di mano. Da qui la decisione di scrivere massimi vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Il 2024 in Puglia, si legge nella missiva, sembra avere tutte le potenzialità necessarie per diventare il peggiore anno degli incendi boschivi. Per ora è già diventato il peggiore rispetto a quanto le amministrazioni statali e regionali competenti avrebbero dovuto fare per evitare danni incalcolabili. E mentre scriviamo due grossi incendi stanno consumando altrettante aree naturali del Salento e le risorse disponibili sono totalmente inadeguate. La Regione Puglia sta esibendo, continuano, un incomprensibile atteggiamento positivo verso i Vigili del Fuoco e la chiara incapacità di provvedere ai compiti dell'attività antincendio boschivo. La convenzione è stata firmata solo poco prima del 15 giugno, rendendo così impossibile l'attivazione per tempo delle risorse straordinarie che da tempo contrastano gli incendi e limitano i danni. Alla luce di tutto questo, le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco della Puglia chiedono la dichiarazione dello stato di emergenza e un immediato intervento risolutore che preveda l'assegnazione, anche temporanea, di uomini e mezzi in quantità adeguata alla situazione di emergenza in atto. Inoltre chiedono l'apertura di un'inchiesta che individi le responsabilità certamente esistenti rispetto alla disastrosa gestione di tutte le fasi della campagna incendi estivi, nelle fasi di prevenzione, contrasto e repressione.